In prefettura di cosa si è parlato? Credo che la Movida fosse al centro di questo tema. Sì, oggi abbiamo parlato di Movida, della necessità di avere una forte operatività su questo tema, perché chiaramente la Movida sta andando fuori controllo, anche quello che è successo negli ultimi giorni è estremamente grave e noi non possiamo avere pezzi della città che durante la notte sono nelle mani di persone sconsiderate, dobbiamo garantire sicurezza in primo luogo ai giovani e ai cittadini.